Ops a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per continuare appunto il nostro calendario dell'avvento ASMR e oggi come trigger per il 5 dicembre ho scelto per voi i fazzoletti che secondo me hanno un suono bellissimo ma mi raccomando, tu indossa un paio di cuffie auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Intanto cominciamo subito Alla prossima Grazie. Che suono fantastico. Grazie. 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 Ci vediamo domani alla stessa ora, quindi buonanotte.